...i bambini crescono meglio se insieme a loro vivono un cano, un gatto o un altro animale in Messico? Sì o no? Io sostengo che il potere un animale renda felice, felici, rilassi, faccia bene, sia educativo e allungi la vita. Un cucciolo affettuoso e simpatico è un regalo più bello che si possa fare da un amore. Giocheranno insieme e con il tempo il regalo che riunisce si trasformerà in rispetto, aiuto, amore e amicizia. Inoltre, il presente di un animale domestico aiuta i bambini a crescere meglio, più sicuri e tranquilli, migliora la loro fiducia in se stessi e vi rende più intorno e responsabili. Molti genitori, però, pensano che un animale in casa ha sporchi e porti malattie. Ciò è falso, ma occorre seguire una serie di regole affinché la convivenza sia sanno in serena. A. Non bisogna ritenere l'animale domestico in un gioco dopo che si possa fare l'uso che si muove o che si possa giurta via quando si scampi di lui. B. Occorre far puntualizzare l'animale almeno una volta all'anno dal veterinario. C. Bisogna tenere pulito l'animale spazzolando e controllando il suo pelo e le varie parti del suo corpo. C. Bisogna tenere pulito l'animale spazzolando e controllando il suo pelo e le varie parti del suo corpo. C. D. Occorre portarlo fuori casa due volte al giorno o fare un'usale lettera per i bisogni. C. E infine bisogna alimentarlo in modo sano e corretto. Grazie.